Buongiorno Friuli, anche da parte della redazione sportiva in questo martedì 23 febbraio, una rassegna stampa che ovviamente sarà incentrata su due tematiche principali, l'Udinese e la sua crisi di vittorie, ma anche l'Europa che incombe con la 26esima giornata di campionato che si è appena conclusa con il pareggio tra Napoli e Milan e la Juventus oggi attesa dal Bayern Monaco. Ma noi iniziamo ovviamente dalle tematiche di casa nostra, dall'Udinese, partiamo questa volta dal Gazzettino, poi ci sposteremo sul messaggero perché tiene banco il caso Udinese e il caso Colantuono Pozzo, quella Colantuono è solo una fiducia a tempo e questo è il titolo principale della sezione sportiva del Gazzettino, questa è proprio la morale che si trae dall'articolo di Guido Gomirato, c'è stato un faccia a faccia ieri mattina tra la società e il tecnico, come succede ogni settimana, questo ha detto Colantuono ieri in esclusiva nella nostra trasmissione Udinese Tonight, tra l'altro a breve sentiremo dei riflessi di quella telefonata, di quella ospitata telefonica di mister Colantuono, si parla già di alternative con la coppia Calori Totò di Natale e poi Giampaolo a giugno, il tecnico che sta sicuramente facendo molto bene all'Empoli, Empoli che negli ultimi due anni è stata una piazza che ha lanciato prima Sarri, adesso proprio lo stesso Giampaolo, queste potrebbero essere le alternative, ma una cosa è certa e l'ha detta ieri Colantuono proprio in trasmissione, mai pensato di dimettermi alla domanda specifica da parte del presidente dell'AUC Muraro, ha risposto così, non ho mai pensato di dimettermi, l'Udinese può salvarsi da sola senza guardare gli altri, firmato Stefano Colantuono, tra l'altro ha detto proprio a Udinese TV, Colantuono, se qualora avessi dovuto decidere di dimettermi, non è una cosa che farei quando c'è l'acqua alla gola, come adesso, magari a 4 punti dalla zona retrocessione, ma allora hai fatto se fossi stato a 10-12 punti, per deontologia, queste le parole di Colantuono, c'è l'unico sorriso, mezzo sorriso della giornata di Genova, lo porta a casa Ali Adnan, la gioia, malgrado la sconfitta, perché ovviamente si parla di questa gioia, malgrado la sconfitta, basta allargare il nostro punto di vista, perché è un gol storico, rimarrà sempre e comunque il primo iracheno ad aver segnato in Serie A, questo è il dato oggettivo dalla partita di Marassi, il primo gol iracheno in Serie A avrà la firma di Ali Adnan, con la netta complicità di Mattia Perin, ma pur sempre il gol del nostro Ali Adnan, ce lo portiamo a casa e ce lo teniamo stretto, un gol che comunque ha regalato un'emozione che purtroppo poi è rimasta un po' effimera. Cinque volte in vantaggio, questa è un'analisi molto interessante, cinque volte rimontata, e proprio qui ritorna il discorso anche del padronpozzo sulla scarsa freschezza e brillantezza della squadra, che arriva a seconda sui palloni, soprattutto in alcuni frangenti del secondo tempo, anche in Liguria la squadra bianconera ha segnato per prima senza uscire vittoriosa, basti pensare alle ultime tre trasferte, Empoli, Milan e Genoa, tre volte in vantaggio, tre volte rimontata, due punti collezionati e questa mancata gestione dei risultati è costata, pensate un po', ben dodici punti, sono sicuramente molti i punti costati all'Udinese per queste rimonte subite nel corso delle partite, particolarmente dolorosa, ripeto, quella di Empoli in cui è arrivato il gol all'ultimo minuto, si parla sul gazzettino anche di Pordenone ma ci torneremo ovviamente in un secondo momento, adesso è il caso di approfondire ancora con il messaggero Veneto la questione relativa agli scarsi risultati dell'ultimo periodo dell'Udinese, Pozzo tiene pazienza mentre i tifosi la perdono, questi sono gli scenari riguardanti l'obiettivo salvezza, colloquio e fiducia con l'Antuono, mentre dalla curva arriva un duro messaggio, pessima gestione di una società allo sbando, quindi sono veramente molto critici i tifosi che tra l'altro nelle loro reazioni hanno detto sui social network dove ovviamente sono sempre molto attivi i tifosi e le reazioni, se non vinciamo le prossime due, la B è ad un passo, diciamo che ovviamente qui si tende sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto, sebbene i prossimi due incontri siano sicuramente decisivi, inutile nasconderlo, se Coll'Antuono ha cercato di evitare di caricare troppo di tensioni la partita contro il Genoa non si potrà credo fare altrimenti nelle partite in casa contro il Verona e poi quella con il Frosinone Almatusa. Faccia a faccia, ieri tra il Paron presente il ADS Giaretta, al tecnico è stato chiesto, come preannunciato, di registrare il lavoro sulla preparazione fisica giudicato carente, anche se Coll'Antuono poi ha portato alla sua causa quelli che sono i report che danno comunque l'Udinese come una squadra che crea molto gioco e che ha anche una buona tenuta fisica, tranne che proprio nella partita contro il Genoa lì c'è stato qualche problema a livello fisico, c'è anche Coll'Antuono che pensa a un cambio di modulo che potrebbe essere la tentazione del 4-3-3, potrei farlo subito e sulla salvezza fino a due gare fa eravamo in linea, tra l'altro si giocherà contro l'Ella Sverona senza l'ex più atteso, Alfredson che sarà squalificato, nessun cambio alla guida tecnica, nessuna variazione nel programma degli allenamenti fotocopiato quello in vigore nelle ultime settimane e Alfredson che non ci sarà perché rimedierà un turno di squalifica. In taglio alto ci sono anche le critiche del web che a volte prendono la veste dell'ironia, prima c'è il bersaglio delle critiche del web che è stato in alcuni frangenti anche Gino Pozzo che secondo i tifosi dovrebbe essere più presente rispetto alla figura del paron senior Giampaolo, questo è quello che dicono ovviamente i tifosi che poi ironizzano sulla tenuta fisica della squadra, una preparazione fisica da zombie ovviamente c'è un famoso telefilm, una scena di un famoso telefilm che riguarda proprio i morti viventi e viene associata alla tenuta fisica dell'Udinese, ovviamente poi l'ironia fa sorridere a volte può essere tagliente, a volte può essere anche leggermente esagerata queste sono però le più gettonate da parte dei tifosi con appunto Colantuono che ieri è stato chiamato a difendere il suo lavoro, il suo operato dopo quella che era stata una post partita particolarmente delicato per lui sull'argomento di missioni, ovviamente ha risposto come abbiamo detto in precedenza ma allora facciamo così, a questo punto andiamo proprio a sentire uno straccio della lunga telefonata che c'è stata ieri a Udinese Tonight, praticamente una parte intera di trasmissione ma c'erano tanti argomenti da sviscerare, li abbiamo selezionati in questo meglio di Oggi lei ha incontrato il Presidente, che vi siete confrontati, com'è andata? Bene, ma non c'è nulla di nuovo perché io come Presidente mi confronto settimanalmente o da un ufficio o ci sentiamo al telefono, per cui abbiamo un rapporto molto scherzo, molto franco e analizziamo sempre il momento e lo stato attuale, per cui oggi abbiamo fatto la stessa cosa Avete parlato di preparazione fisica? Sì, abbiamo parlato di preparazione fisica, ma io non penso che il problema dell'ultimese io Presidente glielo ho detto, poi ci può stare che qualche partita può essere più o meno brillante rispetto a una crema, un'altra, però non credo che il problema sia quello lì magari per ieri sì, forse ieri non siamo andati bene praticamente perché i reporti poi ci hanno indicato questo però c'è da dire che questa settimana, la settimana questa qui entrante, avevamo fatto dei carichi torto che vengono fatti apposta per capire se la squadra necessita ancora di un supplemento di lavoro o se la squadra, avvicinandoci ormai a marzo, dove i carichi solitamente vengono molto alleggeriti avesse bisogno di mollare un po'. Beh, devo dire che sulla scorta delle indicazioni che abbiamo avuto ieri probabilmente la squadra non ha così bisogno poi di lavorare così tanto perché ieri, avendo fatto un grosso lavoro settimanale, la scorsa, importante, ieri qualcosa abbiamo accusato un po' in tutti, anche nei giocatori che hanno giocato meno sapevo anche che il 3-5-2 è un sistema di gioco che poi, alla lunga, se gli esterni non lavorano molto bene è un sistema di gioco che rischia di parti appiattire molto io l'ho adottato tanti anni fa, allenavo nel Catania in Serie B e lo feci ed era un sistema di gioco che se stai molto bene ti dà molto perché riesci a coprire bene il campo sia in ampiezza e a concedere pochi spazi centrali allo stesso tempo con gli esterni, ripeto, puoi sfruttare l'ampiezza e hai due punti insomma, si può dare dei frutti, se scendi un pochino con gli esterni a livello di corsa e compagna bella rischia di diventare un sistema di gioco molto piatto perché poi ti dipendi con 5 difensori, con 5 giocatori, non riesci a ripartire bene quindi devo dire che nelle ultime settimane è una cosa che nella testa mi è molto balanata non per fare il 4-4-2, non abbiamo giocatori con queste caratteristiche io credo che comunque l'Udinese quest'anno non possa fare almeno dei tre centrocampisti perché abbiamo dei centrocampisti con determinate caratteristiche per giocare 4-4-2 magari ci vorrebbero caratteristiche diverse e soprattutto avremo bisogno magari poi di esterni di un certo tipo mentre invece per quello che riguarda il 4-3-3 è un'idea che è da qualche settimana che mi balena un po' nella testa totalmente trasparente direi su alcune tematiche anche su quella del possibile cambio di modulo anche se anche qui con massima onestà visti gli interpreti di Alfredson, Kuzmanovic, Bado difficilmente si potrà prescindere dai tre mediani quindi magari un 4-3-3 vedremo se ci sarà in campo di Natale in questo 4-3-3 come c'è stato nel finale di Genoa-Udinese anzi quasi un 3-4-3 era rimasto per l'Udinese anche se purtroppo rimane l'errore fatale nell'obiettivo salvezza Di Natale i calci di rigore e quell'angolo maledetto nell'analisi di Massimo Meroi amarassi come a Euro 2008 piatto troppo debole alla sinistra del portiere in bianconero lo sbaglio che brucia di più è quello nel preliminare con l'Arsenal in alto appunto i rigori fotocopia di Di Natale con la maglia della Nazionale con la maglia dell'Udinese e la scena assolutamente più triste la scena emblematica delle lacrime di Totò a fine partita consolato da Bruno Fernandes che era rimasto per 90 minuti in panchina e abbiamo assistito tra l'altro smentendo in maniera particolarmente forte per noi che ci siamo stati negli spogliatoi nel post partita queste notizie che sono fuggite uscite di una lite tra Di Natale e Colantuono niente di più contrario alla realtà anzi un Di Natale particolarmente affranto come ha giustamente riconosciuto ieri Colantuono in diretta da noi un Di Natale che si è scusato ovviamente con il mister e con tutta la squadra ma sono errori che capitano nel calcio non si vuole assolutamente mai buttare la croce addosso a nessuno parliamo di numeri, parliamo di statistiche in Serie A comunque Totò viaggia con il 78% di realizzazione in carriera cala al 72% ovvio che ci sarebbe piaciuto aggiornare le statistiche in su gli errori non si cancellano ma Antonio Di Natale resta uno specialista dal dischetto lo dice la media realizzativa di Totò pari al 78% in Serie A con 30 rigori messi a segno su 38 calciati e siamo certi qualora ce ne sarà un altro sarà prontissimo a batterlo e a scagliarlo alle spalle del portiere questa è stata soltanto una eventualità negativa purtroppo all'ultimo minuto ma come detto sono cose che assolutamente capitano non vogliamo chiamare in causa le canzoni di De Gregori eccetera eccetera ma questo è il calcio si possono assolutamente sbagliare i rigori si possono sbagliare atteggiamenti a volte a Roma se ne sono accorti Totti Spalletti adesso c'è una tregua dopo la tempesta molti hanno assimilato la situazione Totti a quella di Natale ieri il capitano si è allenato all'Olimpico a Trigoria Striccioni in suo favore ai primi di marzo sarà decisivo il faccia a faccia con il presidente Pallotta che è in America e che tornerà come detto proprio ai primi di marzo per dirimere questa spinosa e delicata questione andiamo avanti con le notizie del territorio con gli altri sport un'altra nostra grande esclusiva il basket parla di Giulio Maria brutta partita ma siamo sempre primi dopo la vittoria sulla San Giorgese il pivò vede il bicchiere mezzo pieno dopo l'ostentato successo sul Legnano in infermeria da valutare le condizioni degli infortunati Poltroneri e Marchetti queste le parole del nuovo arrivato in casa GSA niente processi credo possa capitare una gara più negativa delle altre vincere anche quando si gioca male è un aspetto positivo sono assolutamente d'accordo insomma se giochi male ma tra l'altro stacchi Orzinuovi in classifica nulla di cui lamentarsi domenica dovremmo giocare con il coltello tra i denti garantisco che affronteremo Bergamo con l'atteggiamento giusto i numeri di Bergamo sono interessantissimi Bergamo al secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa quindi insomma sono dati che non lasciano il tempo che trovano anzi e Orzinuovi addirittura la panchina è a rischio Furlani candidato principale per la sostituzione Orzinuovi che ha perso pochissime partite ma quando perde fa rumore un po' come la stessa GSA e chissà che non possa costare caro al coach proprio il posto c'è anche il sogno Pordenone che pensa perché no alla Serie B la nuova sfida altri 22 punti per i playoff non basta ripetere lo score dell'andata nelle 11 partite che restano da giocare i neroverdi però stanno tenendo ritmi da record e preparano l'assalto decisivo le prossime avversarie con i punti dell'andata che sono stati 15 ma io direi che il dato che adesso salta all'occhio del Pordenone sono le sette vittorie di fila che ha inanellato 21 punti realizzati che l'hanno portata praticamente seconda da sola anche perché ieri nel posticipo la Feral Pisalò ha pareggiato 1-1 contro il Siutirol Alto Adige è un risultato importantissimo che lascia i ramarri di Tedino praticamente nella seconda piazza solitaria con Bella Vista assolutamente sulla vetta Pordenone di cui si parla anche ovviamente sul Gazzettino con Lovisa che già pensa un po' alla Serie B perché ha detto in sette giorni risolvo il caso stadio il presidente è carico pronti all'abito ma è imbattuto da 540 minuti il merito è di tutti questo è anche l'onestà del portiere il grande altruismo di tutta la squadra che si aiuta davvero tantissimo un calcio molto bello quello del Pordenone i ramarri hanno triplicato il patrimonio di squadra ora valgono 3 milioni con Cattaneo e Pasa che sono al top per quanto riguarda le valutazioni di mercato il presidente della Cremonese Simoni una grande e vecchia conoscenza del calcio italiano ha detto i neroverdi sono solidi in difesa e quindi sono tra i favoriti ma la Feralpi Salò è più forte in attacco quindi vedremo se nell'eterna sfida del calcio tra difesa e attacco chi l'avrà vinta diciamo che per ora la difesa del Pordenone sta avendo la meglio sull'attacco della Feralpi Salò ci spostiamo sul calcio di casa nostra 26esima giornata che si è chiusa con Napoli Milan vediamo brevemente quelli che sono i gol stati realizzati da Insigne e Buonaventura nella gara finita 1-1 al San Paolo contro sorpasso fallito dal Napoli che passa in vantaggio al 39esimo con un tiro forse un po' casuale fortuito di Insigne deviato da Abate dietro le spalle di Donnarumma che comunque ha fatto un'ottima partita vicino casa lui che è di Castello a Mare di Stabia e poi il pareggio immediato con Coulibaly che spizza male all'indietro dove c'è Buonaventura che insacca sul primo palo dove forse Piperena poteva fare qualcosa di più Milan che poi si è difeso a Riccio e anche qui la difesa contro l'attacco nell'eterna sfida del calcio ha visto vincere la difesa al San Paolo niente sorpasso dice la Gazzetta esagerando un Milan top Napoli stop un'altra prova di carattere dei rossoneri Allegri Ringrazia Bianconeri ancora primi botta e risposta Insigne Buonaventura palo di Mertens nel secondo tempo con un quasi autogol di Bacca però comunque finisce 1-1 Sinisa orgoglio ed aggressività si legge nel commento poi in taglio alto Totti pace armata pallotta con Spalletti Mancini ottimista nella Hall of Fame questo è ovviamente il tecnico dell'Inter che ci crede per il terzo posto Conte-Celsi c'è un accordo di massima dopo gli europei 2016 potrebbe sedersi sulla panchina dei blues Antonio Conte a proposito facciamo tra l'altro un blitz visto che ho parlato di europei e dovevo trovare l'assist per inserire una notizia che rimbalza anche dagli altri paesi da AS in particolare il quotidiano spagnolo per quanto riguarda le massime competizioni internazionali c'è una notizia bomba di Infantino che per insomma farsi eleggere presidente porta il suo programma politico il candidato presidente della FIFA parla in esclusiva ad AS e dice sogno 40 paesi nel mondiale del 2026 quindi assolutamente una notizia che stravolgerebbe un po' il computo della competizione massima per nazionali perché comunque dopo i mondiali in Qatar del 2022 ci potrebbe essere questo mondiale a 40 squadre quindi chissà quanti paesi coinvolti quanti nuovi orizzonti posti di lavoro e quant'altro è una proposta che sicuramente alletta anche se organizzare un torneo così a 40 squadre non sarà l'impresa più facile del mondo ma Infantino ci crede e vuole la presidenza della FIFA torniamo sulla prima pagina della gazzetta perché si parla di Europa di Champions League vai Juve ora prendi l'Europa nell'andata degli ottavi allo Stadium supermatch con i campioni di Germania torna Manzokic con Dybala può far male alla difesa di Guardiola occhio a Lewandowski che ha dei ritmi assolutamente incredibili di realizzazioni poi Messi è l'altra sfida segnare un gol a Cech che è la sua bestia nera il suo spauracchio non ha mai segnato al portiere Petar Cech poi abbiamo gli approfondimenti da non perdere con su Extra Time Roger Segui nel pallone l'ultimo tabù del calcio è tornata la schiavone io e Rani e Vinci siamo le indistruttibili Marquez Ondarinata vorrei incontrare la mamma di Valentino queste le dichiarazioni di Marquez ci sposiamo all'interno per le due tematiche principali all'inizio Napoli Milan con il bunker Milan che resiste assedio del Napoli diavolo col cuore la Juve resta prima qui l'occasione nel finale con El Caduri che da pochi passi la spara tra le braccia di Donnarumma il protagonista mancato è Higuain che si è fermato stanco e poco servito quattro gare a secco su azione l'ultimo gol col Carpi sul rigore Sarri però ha bisogno di lui e non lo farà riposare nel ritorno col Villareal in Europa League questo per quanto riguarda Napoli Milan che purtroppo vede nelle pagelle una nostra vecchia conoscenza tra i peggiori Allan il peggiore del Napoli 5 con il migliore Coulibaly 6,5 questo range di voti comunque ci fa capire che la partita non è stata proprio spettacolare c'è un'altra vecchia conoscenza però tra i migliori Cristian Zapata addirittura 7 sostituisce alla grande Romagnoli e Bacca invece il peggiore del Milan con un bel 5 sceglie un modo alternativo per dimostrare Guain di essere più forti di lui gioca malissimo ci spostiamo poi sulle tematiche di casa Juve con il titolone scontro fra giganti Buffon Neuer due squadre eccezionali noi la viviamo con un video la vigilia di questa sfida immediata davvero mancano poche ore alla sfida verità dei bianconeri con le parole di Buffon e Allegri in conferenza stampa nella preview della partita Juventus-Bayern-Monaco abbiamo grandi possibilità di poter andare avanti e soprattutto domani bisogna fare una partita siccome la prima è quella sempre decisiva e visto che la giochiamo in casa domani bisognerà essere molto più bravi che a Monaco perché domani sarà sicuramente molto più difficile che quando andremo laggiù tutti i riparti sono pieni e sono bravi se no non puoi vincere quattro campionate di fila forse lottando con il Napoli per vincere il quinto non potevo dimenticare sono gli ultimi finalisti della Champions League questo anno hanno passato turno in un gruppo molto complicato è un piacere è un piacere per noi per me personalmente venire qua e come sportista provarmi provarci sono capaci di stare all'altezza di una competizione come questa con un opponente come questo bisogna fare una grande fase difensiva ma soprattutto bisognerà essere molto bravi a uscire dalla loro pressione quando loro ci daranno pressione siamo già stati qua nel 2013 c'era uno stadio bellissimo una bellissima atmosfera quindi è bellissimo giocare in questa atmosfera si incontrano due squadre top a livello europeo anche l'anno scorso hanno dimostrato quanto lontano possono andare in questa competizione ci sono naturalmente degli avversari più semplici però naturalmente il bello della Champions League è anche affrontare squadre toste bisogna fermare tutta la squadra ha una tattica molto ben definita ci prepareremo molto bene sappiamo che hanno giocatori molto talentuosi tanti che possono fare la differenza e quindi dobbiamo essere preparati mazzo chi c'è che dire sono una buona condizione ci sono allenati e stanno bene quindi domani saranno della partita ci vogliono tutti gli ingredienti per cui la calma è sicuramente uno di questi però insomma per per gettare il cuore oltre all'ostacolo insomma c'è bisogno anche di generosità ma anche di quella sana follia che ti può permettere di osare anche guardiola Lam e Rob nelle parole dei protagonisti del Bayern Monaco ci vuole follia detto Buffon ma ci vuole soprattutto calma come si legge dalla gazzetta all'attacco con calma dice la gazzetta dello sport perché il Bayern fa paura ma la Juve dovrà semplicemente aspettare e lanciare di bala secondo la Rosea sarà questo il leitmotiv e il copione della partita lasciamo la gazzetta per andare a leggerci le ultime due prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dal corriere dello sport Rugito Juve Allegri resta primo e stasera sfida il Bayern in Champions una gara da semifinale secondo Allegri Napoli fermato dal Milan niente sorpasso questo per quanto riguarda il campionato e poi in taglio alto c'è l'esclusiva intervista a Pallotta vi dico tutto il presidente della Roma che interviene sul caso Totti appoggio totale a Spalletti non ha mancato di rispetto comprendo Francesco adora giocare parlerò con lui ora deve scegliere cosa fare continuare qui o fare il dirigente poi anche il presidente Armani presidente della squadra di basket di Milano che parla dopo la vittoria il nostro basket è da grandi super repecia un allenatore furbo e intelligente secondo proprio lo stesso Armani infine tutto sport che richiama l'attenzione ovviamente sulla partita di stasera e su 300 con Bonucci però al posto di Leonida attento Bayern questa è Juve con il richiamo di questa Sparta è lo stadium che si prepara alla guerra la famosa cena nell'Ade vedremo se sarà così per i tifosi bianconeri stecca Napoli buona avventura replica insignie Gera il San Paolo lascia la squadra di Sarri espulso per protesta è un punto dalla Juve al secondo posto Toro parla a Bruno ci vuole rispetto per i tifosi che tra l'altro hanno sancito la fine dell'avventura di Ventura in Granata poi l'intervento di Giulia Buongiorno Totti non ha attaccato né il tecnico né la società quindi a difesa di Totti queste parole infine Wenger minaccia Messi Arsenal fai il Barça Zenga tifosi a me ostili e non volevo Cassano ancora gli scheletri nell'armario della gestione Zenga alla Sampdoria Formula 1 Vettel davanti a Hamilton nei test di Barcellona Ferrari che progressi questa la notizia per quanto riguarda la Formula 1 e anche contestualmente l'ultima notizia della nostra rassegna stampa sportiva che si chiude qui a me non resta che lasciare la linea alla regia e augurarvi la migliore giornata sempre in nostra compagnia grazie a tutti